Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Diamo come sempre uno sguardo ai giornali come tutte le mattine da lunedì al sabato con occhio ai giornali che è il commento alla stampa del giorno. Lo facciamo con il nostro test screening che è già pronto, abbiamo selezionato poche pagine a dire il vero questa mattina perché molto è dedicato allo sport. E allora andiamo subito a vedere i santi di oggi perché di questo si tratta, i santi martiri coreani e poi il tempo. Allora dicevamo del tempo invece, eccolo qua, il tempo per oggi lunedì 20, abbiamo possibili piovaschi o brevi rovesci in particolare durante la seconda parte della giornata. Per la giornata di domani invece martedì 21 vedete come il tempo peggiore su tutta la regione con rovesci diffusi in particolare nel corso del pomeriggio quando risulteranno più intensi. E anche questa settimana sarà un po' caratterizzata dal tempo incerto. Allora i giornali, dicevamo, il resto del Caliro, Corriere Adriatico, sono due giornali che noi abbiamo in edicola e prendiamo in esame perché sono i giornali che hanno i due inserti provinciali. Allora il Cardino di Pesaro apre con la fotonotizia che riguarda lo sport, il calcio, i biancorossi espugnano Teramo con Gucci e De Respinis, la vis dunque in estasi. Il titolo invece d'apertura, effetto Green Pass, corsa al vaccino, aumentano le prenotazioni in provincia dopo il decreto che ha ampliato l'obbligatorietà del certificato. Poi al campo di Marte Novax in 400 a raduno sfidano il virus, abbracciamoci e dimostriamo quanto siamo uniti. Poi il commerciante Ginepro che è positivo, il figlio dice che è stato infettato in ospedale, poi a gradare invece un'uscera comunale fa propaganda anti-carta verde e dunque sarà allontanata. La festa dell'Admo e le storie di rinascita al Miralfiore, poi 110 anni benelli celebrati da 3.000 fedeli di Mezzomondo. Sotto Amadori per il basket, Azza ci ha spiazzato, ora rifletteremo. Vuel, il presidente del consorzio interviene dopo le parole di Petrovic e poi il calcio di Serie C, vittoria sfumata, Alma, il debutto e con Beffa, Tortori e Casolla ribaltano la vastese, ma nel finale arriva il pari degli abruzzesi. Adesso andiamo a vedere invece il Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesolurbino. Comune e poco produttivo, sono le parole di Ricci che hanno fatto indispettire i sindacati. Oltre allo smart working, Ricci sposa il metodo Brunetta e ne ha anche per i dirigenti. I controlli non funzionano. Nel mirino il nucleo di valutazione, la rabbia dei sindacati, affermazioni da approfondire nelle sedi opportune. Poi la Vissi che fa l'impresa a Teramo, Gucce e De Respinis firmano il 2A1. E poi sempre dalla prima, Marche Isolate, Giorgetti, siete come regione tra quelle più irraggiungibili. Si parla di infrastrutture, viarie e quant'altro. Riaffiora invece un bunker a Vallefoglia, un bunker tedesco intatto, pronto per le visite. Poi a Urbino, da Urbino, le pagine di Urbino, l'oculistica Ducale opererà da domani anche a Pergola. E a Fano, scogliere a Sassonia, la giunta approva l'ultimo stralcio. Sotto scuola, task force, controlli, dateci più personale, richiesti soprattutto amministrativi e tecnici. Al via le procedure per designare gli incarichi. Poi caos e code per il teatro, l'opposizione va all'attacco. Obbligo Green Pass per lavorare l'annuncio, triplica le prenotazioni. A Pesaro, Fano e Urbino, da giovedì 16, i numeri sono schizzati, comprese le vaccinazioni spontanee. Vaccinazioni spontanee fa veramente ridere. Ma comunque l'effetto massiccio sembra essere durato tre giorni, poi da ieri netto rallentamento della corsa. E ancora propaganda anticertificato verde, via l'uscera del comune di Gradara. Sta succedendo appunto che l'uscera che controlla la temperatura chiunque entra in municipio, oltre a trascrivere il nominativo del cittadino, sta per essere allontanata da quel posto. Per un motivo avrebbe annunciato agli utenti che passano sotto il suo controllo di dover protestare contro l'obbligo del Green Pass per accedere o lavorare in luoghi pubblici o privati. Qualcuno si è indispettito, ha fatto la spia e quindi adesso la donna verrà allontanata e forse anche fustigata in piazza o messa in ginocchio sui ceci. Mio padre ha perreso il virus in ospedale, la denuncia di Mirko Ginepro, figlio del noto commerciante, entrato nella struttura di Cagli, era negativo, contagiato da un operatore. Qualcuno spieghi perché il personale ospedaliero può infettare i malati. E questo è un problema serio, ma non perché non siano vaccinati gli operatori sanitari, perché sapete che sono tutti vaccinati, quindi gli operatori sanitari non vaccinati non lavorano a contatto con i malati e di conseguenza questo per dire che succede, succede perché il vaccino, come abbiamo detto, non copre e quindi è facile che uno sia positivo e contagi un non positivo. In 400 invece radunano vax, ecco questa è un'altra bugia, io ero lì presente a colpo d'occhio, insomma non erano in 400, almeno sicuramente molti di più, ma comunque prendiamo per boccia che è buono, questo chi vuole creda ai 400, io vi dico che erano di più, ma comunque abbracciamoci tra noi, ovviamente il resoconto è quello che è, nel senso che ognuno racconta facendo il giornalista, racconta quello che vuole, quindi c'erano tante testimonianze invece interessanti, tante testimonianze che raccontano la drammaticità del momento che stiamo vivendo, quindi la libertà di decidere sul proprio corpo se farsi iniettare questo vaccino sperimentale oppure no, tante persone che perderanno il lavoro, tante persone che hanno già perso il sonno la notte, che non sanno più come fare, che non sanno da che parte sbattere la testa, tutte persone che stanno soffrendo, 10-12 milioni di persone italiane che continuano a merduro, ma non perché sono fuori di testa o sono degli esaltati come spesso ci dipingono i giornali, ma semplicemente perché non se la sentono di farlo, ma perché non se la sentono di farlo questo vaccino? Perché hanno paura, perché hanno paura degli effetti, effetti lungoterni, effetti di qualsiasi genere, ecco questi sono i Novavax, persone che ragionano, che riflettono e mi dispiace che ci siano persone che si arrabbiano per quello che dico al mattino, ma sono l'unico, almeno qui a livello locale, che lo dice, perché tutto il resto, tutti gli altri, colleghi giornalisti di qualsiasi parte, invece vanno dritti per la loro strada e raccontano cose che poi non sono neanche vere al 100%, quindi anche, stavo riflettendo sulla rassegna stampa del mattino, io faccio in questi mesi una fatica enorme ed è uno sfogo che faccio con voi, una fatica enorme a venire qui a fare da cassa di risonanza a dei giornali di cui io non mi fido più, che raccontano solo quello che vogliono loro, quindi sto pensando seriamente di interrompere questo appuntamento con voi il mattino, perché i giornali non li legge più nessuno, sono quattro gatti. Fare da cassa di risonanza, la televisione invece la guarda un sacco di gente, e vi ringrazio per questo, ma fare da cassa di risonanza è controproducente, cioè è una questione di coscienza, non posso venire qui a leggervi e ad amplificare delle cose che non sono vere, o perlomeno per me non lo sono, quindi faccio molta fatica ed è uno sfogo che condivido con voi, con chi vuole accogliere questo sfogo, chiaramente tutti gli altri se ne faranno una ragione, cambieranno canale, ma poco importa e quello che dico, ecco appunto, sono indeciso se continuare o no questa rassegna stampa, perché non mi va di amplificare cose che non sono a mio parere corrette. Ci penserò, ci pregherò un po', vediamo che cosa succede, aiutatemi anche voi. E allora, andiamo avanti, sono Novax, 22 persone su 100, l'appello ne mancano 309 mila, i dati aggiornati della profilassi nelle Marche, in Italia senza siero il 25,4%, e poi la cronaca con questa notizia che arriva da macerata, terribile, un ragazzino di 12 anni che è morto, si schianta contro un albero in auto, una macchina che si è schiantata contro un'auto, dentro c'era sto ragazzino, questa vittima si chiama Nicola Scisciani di Tolentino, all'ospedale anche il fratello e due cugini, una è grave, i compagni ovviamente increduli. Poi da fermo invece, terrore sul lungomare, spray al peperoncino, violenze, ragazzi feriti, la rissa degenere in guerriglia, un giovane ricoverato all'ospedale, denuncia shock, in dieci hanno preso a calci in testa, mio fratello. Questa è l'altra notizia sulle cronache di Ancona, da Fano invece, scogli, integrazione e aggiunta, Sassonia, la Giunta ha approvato il completamento, lavoro e chiusura del varco mancante di 167 metri, un investimento complessivo di 625 mila, il 20% a carico del comune, il cantiere era partito sei anni fa. Poi il multisala Giometti che riapre il cinema a Fano, uno dei pochi, insomma, fanesi, riapre il 30 di settembre, sotto, no, andiamo di là, Carboni porta Fano nella Bodeguita, siamo a Cuba, firma dell'artista sul registro del locale dell'Havana, dei suoi quadri sono ora patrimonio, due dei suoi quadri sono ora patrimonio dell'umanità, il ritrattista fanese ha realizzato un dipinto di Hemingway e un murale all'ingresso, per lui ovviamente grande onore. Poi scoperto un bunker tedesco intatto, sarebbe bello rivederlo visitabile, dai racconti dei nonni alla realtà, il fotografo Livi ha scovato in una zona impervia di Montecchio, poi una famiglia che va a messa, quando rientra, insomma, trova i ladri che sono entrati in azione con una panda, doppio colpo ad Apecchio, una casa solo a soccuadro, nell'altra invece un colpo da 2.000 euro. Oculistica, reparto d'eccellenza, da domani interventi anche a Pergola, poi sotto cancellieri, progetti sbagliati e pettegolezzi, Feduzzi risponde sui punti all'ex sindaco, le strutture sportive erano vecchie. E ancora il Fano per chiudere con lo sport, beffato al fotofinish, il Fano che pareggia 2-2 in casa contro la Vastese, e poi la Vispesero che invece vince a Teramo fuori casa, Blitz vincente della Vis, questo è il titolo sulle pagine sportive. Vi ricordo che alle 10 su Fano TV, dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, ci sarà la commemorazione delle stimmate di San Pio da Pietralcina, e quindi non andrà in onda la ginnastica. È tutto, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. La nostra redazione è pronta già per cominciare a preparare i servizi di questa sera, servizi come sempre che noi cerchiamo al 100% di verificare e di proporre al nostro pubblico che ci segue sempre con tanto affetto. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.